Sarà collocata presso il centro storico della città di Agropoli una panchina dell'amore che richiama anche la leggenda della bellissima principessa di Agropoli, Ermegalda, chiamata da tutti la regina verde per il colore particolare della sua pelle. L'iniziativa è volta ad attrarre ed incuriosire i visitatori e turisti che giungono in città, ma non solo presso la piazzetta che precede la porta del centro storico si installeranno dei tavolini e delle sedie per rendere quel luogo in questi ultimi tempi conteso tra privati cittadini e l'ente comunale un salotto culturale. A spiegarci nel dettaglio quali saranno gli interventi previsti è l'assessore alle politiche sociali Vanna D'Arienzo. Si è pensato di rivalutare il centro storico e quindi anche le due piazzette bellissime, meravigliose che sono in questo luogo stupendo. Ho pensato insieme all'amministrazione di realizzare la panchina dell'amore. La panchina dell'amore che è un sentimento specialmente in questo momento post-covid che va rivalutato. L'amore sappiamo unisce i popoli anche in momenti così tristi e quindi ho progettato insieme ovviamente a dei tecnici e a delle persone esperte per quanto riguarda l'illuminazione. Quindi mi riferisco al signor Ciro Ruggiero che è un professionista che noi abbiamo qui sul posto e ho progettato abbiamo progettato la panchina dell'amore. È una panchina molto bella, anche ampia, che noi auspichiamo che sia un polo di attrazione turistica. Il centro storico va rivalutato anche sotto l'aspetto culturale. Quindi quella bellissima piazzetta che abbiamo il dovere di restituire alla comunità diventerà un polo culturale. Questa panchina dell'amore perché? Perché ho riflettuto e ho ricordato che la nostra città ha una bellissima leggenda. Una leggenda che è arrivato il momento di proprio di metterla in luce. Perché? Perché è una leggenda che parla dell'amore in un momento di guerra. Quindi la leggenda che si ispira al tempo dei saraceni dove c'era questa principessa ermegalda, una principessa bellissima, molto corteggiata, che si innamorò di un povero pescatore, pescatore Octavio Agropolese. Purtroppo questa leggenda narra che il pescatore fu disperso durante una notte di mare in tempesta e che ancora oggi i pescatori odono dei lamenti di questa regina che gli dèi hanno trasformato in ninfa. Quindi questa leggenda verrà riproposta in quella piazzetta, in quella piazzetta che verrà restituita da volere ovviamente della pubblica amministrazione alla comunità. Diventerà un presidio culturale molto importante, gestito dal consigliere delegato alla cultura, il dottor Franco Crispino, dove si parlerà delle varie leggende che sono presenti sul nostro territorio scilentano. E perché no? Da lì magari chiedere al dottor Crispino di rendere anche itinerante una parte della sua bellissima manifestazione culturale di settembre, settembre culturale. Quindi noi metteremo lì dei tavolini, collocheremo dei tavolini, collocheremo delle sedie e uno schermo e quindi diventerà un centro culturale. Speriamo che i commercianti, noi inviteremo i commercianti del luogo a sfruttare anche un brand che è stato pensato in merito. Quindi magari creare la pizza della regina Ermegalda, la pizza del pescatore Octavio, il gelato, il dolce. Quindi può essere anche un momento di sviluppo economico oltre che turistico. Assessore, il 28, quindi venerdì, nel tardo pomeriggio ci sarà una manifestazione pacifica da parte dei cittadini di Agropoli proprio per manifestare il proprio pensiero in merito a quello che è un po' successo negli ultimi tempi riguardo la piazzetta che precede l'ingresso al centro storico. Lei sarà presente insieme ai cittadini di Agropoli? Certamente sarò presente e con immenso piacere. Si tratta di una manifestazione pacifica, ripeto, per restituire alla città ciò che è della città e quindi io sono ovviamente fra i cittadini agropolesi. Grazie. 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 Grazie.